Si dichiaravano indigenti ma in realtà percepivano provvidenze comunitarie previste alla politica agricola comune quali imprenditori agricoli per decine di migliaia di euro, ottenendo così indebitamente il reddito di cittadinanza. E' quanto scoperto alla Guardia di Finanza di Enna nel corso di un'analisi preliminare nei confronti di 7.600 beneficiari di contributi. E' potenzialmente in grado di sfuggire alla verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per ottenere il sussidio. Analisi che in un periodo caratterizzato da una diffusa richiesta di sovvenzioni pubbliche per sopperire alle situazioni di difficoltà economiche connesse all'emergenza epidemiologica, ha permesso così di scovare 36 imprenditori della provincia ennese con situazioni economiche non marginali e percettori di contributi erogati dalla PAC. In alcuni casi gli indebiti percettori del reddito di cittadinanza riavano a ottenere sussidi pari a 1.200 euro. Nell'ambito dell'operazione denominata Inside, i 36 soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Enna guidata dal dottor Massimo Palmeri e rischiano adesso la reclusione da 2 a 6 anni per violazione all'articolo 7,1 del decreto legge 4 2019. Allo stesso tempo sono state immediatamente avviate le operazioni per la revoca del beneficio e il recupero dell'indebito di competenza dell'Inps, quantificato allo Stato complessivamente in oltre 200.000 euro.